ciao amici buona domenica volevo dirvi che domani volevo volevo dirvi una cosa adesso ve la dico domani alle ore 12 riparte muschio selvaggio ospite fabio fazio puntata pazzesca abbiamo girato altre puntate ma sarà una stagione spettacolare ragazzi ore 12 non mancate ciao pronti per la partita di stasera felpa off white per milan bohem pronta e basta e mogliettina pronta mogliettina elsa costruiscimi un castello di ghiaccio vai che bello il castello si è caduta amore elsa mi fai mi costruisci olaf wow hai fatto olaf madosca senti un ghiacciolo per me al limone grazie e lei come l'hai fatto devi fare la magia del ghiaccio amore ok wow grazie ma elsa ma non ho capito se deve legge lei noi cosa dobbiamo leggere è il momento vai prendiamo il joystick quello di spiderman però vai amore brava ma che agilità marone papà già si era rotto due vertebre così fammi vedere il joystick maronna mia che joystic dove vai mamma ti chiudo chiudo vai 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 chiudo io ciao ciao vai vai indietro va indietro tentale di ah no non vuoi andare chiudiamo tenta tenta le dita ma cosa fai scusa mikkachu si amore sta facendo un castello no viddo mangia bene vittò no 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 i no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti